ci troviamo nella chiesa matrice di simbario e il 15 dicembre del 2020 e anche qui hanno preparato un presepe meraviglioso diverso dall'anno scorso un presepe più basso di fronte all'altare come vedete le festività iniziano a farsi sentire nonostante la presenza del covid ma devo ribadire che a simbario per adesso non ci sono casi e speriamo che san rocco continui a proteggere tutta la comunità